Il 20 luglio OpenAI ha rilasciato un importantissimo aggiornamento che rende disponibile una nuova funzionalità all'interno di CiaGPT. La nuova funzionalità è chiamata Custom Instructions, istruzioni personalizzate, e ci fa risparmiare un sacco di tempo. Diciamo che è un periodo di grandi novità per CiaGPT, abbiamo visto qualche giorno fa Code Interpreter, se vi siete persi il video andate a recuperare, vi lascio tutti i link. Quindi ci sono nuove feature, nuove implementazioni che stanno migliorando la piattaforma di CiaGPT. E queste Custom Instructions, queste istruzioni personalizzate, sono veramente una grande aggiunta, molto utile. Ma di cosa si tratta? Come sappiamo, quando andiamo ad inserire i prompt all'interno del modello, più siamo dettagliati, maggiore il livello di dettaglio, di contesto che forniamo alla piattaforma, migliore, più dettagliato e più preciso sarà l'output che riceveremo. Succede però molto spesso che ci troviamo a dover inserire lo stesso prompt, o comunque prompt molto simili fra loro, ripetitivi, fra virgolette, perché il nostro lavoro ci porta a dover eseguire delle task ripetitive. Per esempio, per il lavoro che svolgo mi trovo a dover scrivere articoli per diversi blog. Ovviamente se devo scrivere 10, 15, 20 articoli per un blog e voglio generare delle bozze con CiaGPT, tutte le informazioni preliminari sono le stesse per ogni singolo articolo. Quindi il nome del blog, il tono dell'articolo, per mantenere la coerenza all'interno del sito web avrò più o meno lo stesso schema, avrò più o meno le stesse informazioni inserite. Però ogni volta, per ogni nuovo articolo, dovrò andare a inserire quelle informazioni per ogni nuova chat, quindi è un po' una perdita di tempo. Con le custom instructions superiamo un po', aggiriamo questo problema, perché tutte le informazioni preliminari, quindi tutta la fase di preparazione, se così vogliamo chiamarla, del modello, non viene più effettuata all'interno della chat, ma in un altro ambiente e CiaGPT terrà a mente quelle informazioni per tutte le chat, per tutte le interazioni che avremo con lui dall'in poi. Prima di mostrarvi la funzionalità, diamo un'occhiata al sito di OpenAI e vediamo un po' quali sono le motivazioni dietro l'uscita di questa nuova funzionalità. E qui vediamo che, secondo me, il passaggio più interessante è proprio questo in cui OpenAI ci dice abbiamo ascoltato i vostri feedback riguardo la frizione, insomma un po' la difficoltà di iniziare ogni conversazione con CiaGPT un po' da zero. Quindi ogni volta dobbiamo reinserire tutto il contesto e con questo in mente loro hanno inserito questa nuova funzionalità. OpenAI ci fornisce poi degli esempi, insomma, per chiarirci l'utilità di questa funzionalità. Io vi ho parlato, insomma, di come lo utilizzo, lo utilizzerei io per scrivere blog, per scrivere articoli per un blog, ma noi qui ci fa l'esempio, per esempio, di un insegnante che deve preparare dei piani studio. Alla fine le informazioni personali dell'insegnante, un po' il suo background, sono sempre le stesse per ogni piano studio, quindi quelle informazioni possono rimanere, diciamo, all'interno della memoria, fra virgolette, di CiaGPT. Stessa cosa per uno sviluppatore che lavora con un codice che non è Python, qui ci fa l'esempio, ovviamente quello sviluppatore può inserire questa informazione e questa informazione verrà trattenuta, fra virgolette, da CiaGPT per tutte le conversazioni successive. E possiamo andare avanti un po' all'infinito, però vi mostro com'è la funzionalità, come attivarla e un po' come funziona, è molto semplice, veramente, non c'è nulla di fantascientifico. Allora, andiamo su CiaGPT, proprio con i plugin, andiamo nella sezione beta feature e vediamo, abbiamo custom instruction. Quello che ci basterà fare è attivarlo e in questo momento abbiamo le custom instruction attive, quindi andiamo dai setting, clicchiamo su custom instruction, qui, e come vediamo accediamo a questa sezione. Abbiamo due box, nel primo box ci viene richiesto cosa vuoi che CiaGPT conosca sulla tua persona, quindi proprio dal punto di vista di informazioni personali. E qui sulla destra ci offre alcuni suggerimenti, quindi qui ci dice, ok, qui potresti inserire queste informazioni, dove sei basato, quindi diciamo, dove sei localizzato, dove vivi, qual è il tuo lavoro, quali sono i tuoi hobby interessi, quali materie, quali topic, quali argomenti, di quali argomenti parli più frequentemente, quali sono le, diciamo, gli obiettivi del contenuto che vuoi generare o della task che vuoi eseguire. Qui, questi sono solo degli esempi, noi qui possiamo inserire tutto quello che ci viene in mente, tutte le informazioni che riteniamo rilevanti, informazioni preliminari che riteniamo rilevanti per ottenere quell'output specifico. Ragioniamo come avremmo ragionato con un prompt, quindi consideriamo questi due box come parte integrante poi del prompt effettivo. Quindi inseriamo più informazioni possibili, tanto lui alla fine le tiene, le ricorda e le utilizzerà poi per svolgere le sue task. Vediamo poi il secondo box, nel secondo box, il secondo box è dedicato all'output, a come vogliamo che ci venga restituito l'output da parte del modello. Quindi qui anche ci vengono forniti un po' di esempi, quindi per esempio quelli possiamo, quindi qui li possiamo inserire, vogliamo un tono formale o informale, quanto deve essere lungo, voglio un formato particolare, per esempio voglio che i risultati, le risposte che mi fornisci siano solamente sotto forma di tabella o sotto forma, non lo so, di elenco puntato, eccetera, eccetera. Quindi qui gli diamo informazioni su come vogliamo che venga restituito il prompt. Facciamo un esempio pratico, proviamo a fargli generare un articolo SEO, circa 800 parole, utilizzando custom instructions. Quindi gli vado ad inserire le mie informazioni personali, ho scritto tre righe giusto per dargli un po' di contesto su chi sono, insomma, sul mio background. Sono Andrea Giorgi, lavoro in ambito digital marketing SEO da circa 10 anni, gestisco diversi blog verticali su diversi argomenti di mio interesse. Voglio che i miei contenuti siano accessibili a tutti puntando sulla semplicità comunicativa. Quindi sto semplicemente dicendo che gestisco blog, creo contenuti e un po' il minimo comune denominatore di questi contenuti è la semplicità, un po' di fruizione, no? Quindi non voglio testi troppo complicati poi. Passiamo al secondo box, quindi io qui gli scrivo. Scrivo in un tono informale ma che risulti allo stesso tempo professionale. Genera contenuti di almeno 800 parole. Usa frasi brevi e semplici in modo che la lettura risulti semplice e fruibile. Struttura l'articolo utilizzando titoli H2, H3, utilizza esempi concreti e rilevanti quando necessario. Genera sempre una sezione di Factor con relative risposte alla fine dell'articolo. Genera sempre SEO, title e meta description. Usa l'H1 fornita come parola chiave. Quindi praticamente cosa sto facendo? Io ho inserito tante informazioni su come voglio che mi venga restituito l'output che sono le stesse informazioni che vado a inserire ogni qual volta voglio generare una nuova bozza di articolo. In questo modo gli inserisco all'interno di Custom Instruction e lui le ricorda. Quindi voglio adesso da qui in poi voglio generare 20, 30, 40 articoli. Lui terrà a mente tutte queste istruzioni senza doverle ripetere costantemente. Vediamo cosa succede. Quindi cosa faccio? Vado a inserire un prompt molto generico. Scrive un articolo relativo alle applicazioni più insolite dell'intelligenza artificiale. Non gli do altri dettagli, non gli do altre informazioni perché glielo ho già fornite. Ecco qui che noi parte della scrittura dell'articolo. Vediamo subito applicazioni insolite dell'intelligenza artificiale che è la nostra anche keyword principale in H1. ha inserito gli H2 come da nostra richiesta e vediamo che comunque lui ha seguito alla lettera un po' quello che gli chiediamo. Anche in questo caso poi dobbiamo trovare ovviamente la formula giusta però noi qui effettivamente ci sta fornendo tutte le varie applicazioni. Vediamo creazioni di opere d'arte, degustazioni di vino, scrittura di poesia ovviamente. Lui ci sta parlando di diverse applicazioni insolite ma non ci focalizziamo sul contenuto, focalizziamoci sul fatto che comunque lui ci ha fornito la sezione di FAQ alla fine, ci ha fornito la struttura che volevamo e il numero di parole che volevamo. Se clicchiamo sul simbolo i di informazioni, OpenAI ci comunica che ogni qualvolta vogliamo modificare l'istruzione personalizzata, possiamo sì ovviamente cambiarla ma dobbiamo avviare una nuova chat. Quindi non possiamo iniziare con una istruzione personalizzata, modificarla all'interno della stessa chat, dobbiamo iniziarne una nuova. Per cui viene evidenziato forse un limite di questa nuova funzionalità, limite che secondo me verrà risolto in futuro, anche abbastanza a breve, perché al momento possiamo attivare una sola custom instruction. Quindi questa custom instruction attiva per la generazione di articoli, ma come sappiamo utilizziamoci a GPT per tante cose diverse durante la stessa giornata, quindi spesso mi dovrò trovare a avere magari 3, 4, 5 set di istruzioni personalizzate. Sarebbe molto comodo, molto figo avere la possibilità di scegliere set 1, set 2, set 3 in base a quello che devo fare. Quindi per esempio il set 1 per gli articoli, set 2 per generare calendario editoriale, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questo verrà rilasciato in futuro, ne sono abbastanza convinto, almeno lo spero. Però per il resto devo dire che si tratta di una funzionalità molto utile. Ovviamente io ho fatto un esempio relativo al mio lavoro, ma possiamo pensarne un po' di tutte. Pensiamo a un personal trainer specializzato in fitness, che deve preparare dei piani di allenamento, ovviamente non deve inserire ogni volta le sue specializzazioni, le sue ore di lavoro, in cosa è bravo, come lavora, il suo modo di lavorare, il suo modus operandi, ma dovrà solamente concentrarsi sul cliente, fra virgolette. Stessa cosa, un piano nutrizionale da parte di un nutrizionista, social media manager che deve generare post per lo stesso account social. Quindi possiamo pensare a veramente tante applicazioni, tanti ambiti d'uso. Se vediamo l'efficacia di queste istruzioni, se andiamo a inserire lo stesso prompt, senza però quelle istruzioni, infatti come vediamo con lo stesso prompt stragenerico, senza informazioni, vediamo che il risultato è veramente un po' così discutibile. Ovviamente molto generico, non ci sono H2, non ci sono H3, non ci sono le FAQ, non ci sono tutte quelle informazioni che gli ho chiesto. Beh, è normale, non gliele hai chiesto. Però vi farò vedere che è una funzionalità che realmente impatta poi sull'output, sulla nostra produttività, perché ci fa risparmiare un sacco di tempo. Il grosso ma è dato dal fatto che al momento questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti. Però, c'è un grosso però, io lo sto utilizzando ovviamente come con una VPN. La VPN ci permette di far risultare la nostra connessione da qualsiasi paese al mondo. Io sto utilizzando NordVPN in particolare, quindi faccio risultare che mi sto connettendo dagli Stati Uniti e posso utilizzare Custom Instruction. Le istruzioni personalizzate verranno comunque rilasciate, credo a breve, anche in Europa, quindi in Italia, Regno Unito e altri paesi al di fuori degli Stati Uniti. Però, per il momento, se avete una VPN o avete magari intenzione di utilizzarlo, potete sottoscrivere un abbonamento. Alla fine ci sono delle ottime offerte su NordVPN, io vi lascio dei link sotto, e soprattutto per l'abbonamento di un anno, di due, ci sono degli sconti belli, insomma, sconti abbastanza corposi. Se no, semplicemente un po' di pazienza e arriverà, e arriverà. Volevo solamente mostrarvi questa funzionalità, dirvi che esiste, che è veramente utile, comunque ci fa risparmiare tempo. Ripeto, se lo utilizziamo per lavoro, con prompt abbastanza complessi che raccolgono tante informazioni ripetitivi, Custom Instruction è veramente la funzione perfetta, che però, secondo me, può migliorare come con la possibilità, magari in futuro, di poter scegliere tra diverse istruzioni personalizzate. OpenAI, se mi stai ascoltando, segna questo feedback. Beh, io spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, come al solito. iscrivetevi qui sotto se state usando Custom Instruction, un po' di impressioni, pareri, facciamo un po' di discussione, di sama discussione. E con questo vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!